Gamel libera il settore destro! 2 con me! Tutto bene Shifty? Dobbiamo prendere il magazzino! Shifty! Spara a quelle finestre, andiamo a muoversi, via via! Kipper, 2 Lincoln, cominciate a liberare gli edifici, 2 per casa, gli altri 2 avanti, veloci! Sparate sulla destra, altri 2, forza, forza, avanti, avanti! Sparate! 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 Grazie a tutti